Conventinote è il programma musicale previsto al conventino di Monte Ciccardo da giovedì 4 luglio per tutti i giovedì del mese. Avremo la possibilità di aprire il conventino sia per la proposta musicale di vari generi e la possibilità di fluire della mostra Borderline allestita perennemente al primo piano. Quest'anno Special Edition con Federico Malaventura che è il tecnico d'arte di Pesaro Segreta che accompagnerà i visitatori alla scoperta di questa mostra molto interessante. Attraverso la collaborazione con la Proloco di Monte Ciccardo sarà possibile fruire della bellezza del conventino a partire dalle 19.30 con la degustazione di prodotti tipici locali e poi alle 21 i concerti musicali.